in quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere si trova una rubrica la quale dice incipit vita nova sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento da assemblare in questo livello e se non tutte almeno la loro sentenzia nove fiate già presso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto quanto alla sua propria girazione quando ali miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente la quale fu chiamata da molti beatrice li quali non sapeano che si chiamare ella era in questa vita già stata tanto che nello suo tempo lo cielo stellato s'era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età de si convenia in quello punto dico veracemente che lo spirito della vita lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli menimi polsi orribilmente e tremando disse queste parole ecce deus forti or me qui veniens dominabit or michi in quello punto lo spirito animale lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni si cominciò a maravigliare molto e parlando specialmente agli spiriti del viso si disse queste parole apparuit i am beatitudo vestra in quel punto lo spirito naturale lo quale dimora in quella parte dove si ministra lo nutrimento nostro cominciò a piangere e piangendo disse queste parole e o miser qui a frequente rimpeditus ero de inceps d'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima la quale fossi tosto a lui disponsata e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che gli dava la mia immaginazione che me ne convenia fare tutti gli suoi piaceri compiutamente e lì mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando e vedendola di sin nobili e laudabili portamenti che certo di lei si potea dire quella parola del poeta omero ella non parea figliuola d'uomo mortale ma di deo e avvegna che la sua immagine la quale continuamente me costava fosse baldanza d'amore a signoreggiare me tuttavia era di sin nobelissima vertù che nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione in quelle cose là ove ecco tale consiglio fosse utile a udire e però che soprastare alle passioni e atti di tanta gioventude pare alcuno parlare fabuloso mi partirò da esse e trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre dell'esemplo onde nascono queste verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi poiché fuoro passati tanti die che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima nell'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo in mezzo a due gentili donne le quali erano di più lunga etade e passando per una via volse gli occhi verso quella parte ovvio era molto pauroso e per la sua ineffabile cortesia la quale è oggi meritata nel grande secolo mi salutò e molto virtuosamente tanto che me parve allora vedere tutti gli termini della beatitudine l'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quel giorno e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire agli miei orecchi presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera e puosimi a pensare di questa cortesissima e pensando di lei mi sopraggiunse uno soave sonno nello quale mi apparve una maravigliosa visione che me parea vedere nella mia camera una nebulosa di colore di fuoco dentro alla quale io discernea una figura ad uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse e pareami con tanta letizia quanto a sé che mirabile cosa era e nelle sue parole dicea molte cose le quali io non intendea se non poche tra le quali intendea queste ego dominus tus nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda salvo che in volta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente la quale io riguardando molto intentivamente conobbi che era la donna della salute la quale bavea lo giorno dinanzi degnato di salutare e nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta e pareami che mi dicesse queste parole vide cortum e quando elli era stato alquanto pareami che disvegliasse questa che dormia e tanto si sforzava per suo ingegno che le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea la quale ella mangiava dubitosamente appresso ciò poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia e con essa mi parea che si negisse verso lo cielo onde io sostenea si grande angoscia che lo mio deboletto sonno non poteo sostenere anzi si ruppe e fui disvegliato e mantenente cominciai a pensare e trovai che l'ora nella quale m'era questa visione apparita era la quarta della notte stata sì che appare manifestamente che la fue la prima ora delle nove ultime ore della notte pensando io a ciò che m'era apparuto proposi di farlo sentire a molti li quali erano famosi trovatori in quello tempo e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima proposi di fare uno sonetto nello quale io salutassi tutti li fedeli d'amore e pregandoli che giudicassero la mia visione scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto e cominciai allora questo sonetto lo quale comincia a ciascun'alma presa a ciascun'alma presa e gentilcore nel cui cospetto vello dir presente in ciò che mi rescrivan suo parvente salute in lor signor cioè amore già erano quasi che a terzate l'ore del tempo che onne stella nel lucente quando mapparvi amor subitamente cui è senza membrar mi dà orrore allegro mi sembrava amor tenendo mio core in mano e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo poi la svegliava e desto core ardendo lei paventosa unitamente pascea appresso gir lo ne vedea piangendo questo sonetto si divide in due parti che nella prima parte saluto e domando risponsione nella seconda significo a che si deve rispondere la seconda parte comincia a quivi già erano a questo sonetto fu risposto da molti e di diverse sentenze tra le quali fu il risponditore quelli che io chiamo primo degli miei amici e disse allora uno sonetto lo quale comincia vedeste al mio parere onne valore e questo fu quasi lo principio dell'amistà tra lui e me quando elli seppe che io era quelli che li avea ciò mandato lo verace giudicio del detto sogno non fu è veduto allora per alcuno ma ora è manifestissimo agli più semplici da questa visione innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima onde io divenne in picciolo tempo poi di si fraile e debole condizione che a molti amici pesava della mia vista e molti pieni di invidia già si procacciavano di sapere di me quello che io volea del tutto celare ad altrui ed io accorgendomi del malvagio domandare che mi faceano per la volontà dell'amore lo quale mi comandava secondo lo consiglio della ragione risponde a loro che amore era quelli che così m'avea governato dice ad amore però che io portava nel viso tante delle sue insegne che questo non si potea ricovrire e quando mi domandavano per cui t'ha così distrutto questo amore e io sorridendo li guardava e nulla dice a loro uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove sudiano parole della regina della gloria ed io era in un luogo dal quale vedea la mia beatitudine e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto la quale mi mirava spesse volte meravigliandosi del mio sguardare che parea che sopra lei terminasse onde molti s'accorsero dello suo mirare e intanto vi fu epostomente che partendomi da questo luogo mi sentì io dicere appresso di me vedi come cotale donna distrugge la persona di costui e nomilandola io intesi che dicea di colei che mezzo era stata nella linea retta che movea dalla gentilissima beatrice e terminava negli occhi miei allora mi confortai molto assicurandomi che lo mio secreto non era comunicato lo giorno altrui per mia vista e mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo della verità de e tanto ne mostrai in poco di tempo che lo mio secreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano con questa donna mi celai al quanti anni e mesi e per più fare credente altrui feci per lei certe cosette per rima le quali non è mio intendimento di scrivere qui se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima beatrice e però le lascerò tutte salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia lode di lei dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore quanto dalla mia parte si mi venne una volontade di volere ricordare lo nome di quella gentilissima ed accompagnarlo di molti nomi di donne e specialmente del nome di questa gentile donna e presi li nomi di sessanta le più belle donne della cittade ove la mia donna fu e posta dall'altissimo sire e compuosi una pistola sotto forma di sirventese la quale io non scriverò e non ne avrei fatto menzione se non per dire quello che componendola maravigliosamente addivenne cioè che in alcuno altro numero non sofferse lo nome della mia donna stare se non in solo nove tra li nomi di queste donne la donna con la quale io avea tanto tempo celata la mia volontade convenne che si partisse della sopradetta cittade e andasse in paese molto lontano perché io quasi sbigottito della bella difesa che m'era venuta a meco assai me ne disconfortai più che io medesimo non avei creduto dinanzi e pensando che se della sua partita io non parlasse alquanto dolorosamente le persone sarebbero accorte piuttosto dello mio nascondere propuosi di farne alcuna lamentanza in uno sonetto lo quale io scriverò a ciò che la mia donna fu e immediata cagione di certe parole che nello sonetto sono sì come appare a chi lo intende e allora dissi questo sonetto che comincia o voi che per la via o voi che per la via d'amor passate attendete guardate se li è dolore alcun quanto il mio grave e prego sol caudirmi soffriate e poi immaginate se io son d'ogni tormento ostale e chiave amor non già per mia poca bontate ma per sua nobilitate mi pose in vita si dolce e soave che io mi sentia dir dietro spesse fiate deo per qual dignitate così leggiadro questi lo corave or ho perduto tutta mia baldanza che si muove ad amoroso tesoro on dio pover di moro in guisa che di dirmi vi è indottanza sì che volendo far come coloro che per vergogna c'è la loro mancanza di fuor mostro allegranza e dentro lo core struggo e ploro questo sonetto ha due parti principali che nella prima intendo chiamare di fedeli d'amore per quelle parole di geremia profeta che dicono o vos omnes qui transitis per viam attendite et videte si est dolor sicut dolor meus e pregare che mi sofferino da udire nella seconda narro là ove amore ma vea posto con altro intendimento che le streme parti del sonetto non mostrano e dico che io ho e ci ho perduto la seconda parte comincia quivi amor non già appresso lo partire di questa gentile donna fu e piacere del signore degli angeli di chiamare alla sua gloria una donna giovane e di gentile aspetto molto la quale fue assai graziosa in questa sopradetta cittade lo cui corpo io vidi giacere senza l'anima in mezzo di molte donne le quali piangeano assai pietosamente allora ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima non poteo sostenere alquante lagrime anzi piangendo mi propusi di dicere alquante parole della sua morte in guiderdone di ciò che alcuna fiata l'avevo veduta con la mia donna e di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che io ne dissi siccome appare manifestamente a chi lo intende e dissi allora questi due sonetti li quali comincia lo primo piangete amanti e lo secondo morte villana piangete amanti poiché piange amore udendo qualche gion lui fa plorare amor sente a pietà donne chiamare mostrando amaro duol per gli occhi fore perché villana morte in gentilcore ammiso il suo crudele ad operare guastando ciò che al mondo è da laudare in gentil donna sovra dell'onore audite quanto amor le fece orranza chi olvidi lamentare in forma vera sovra la morta immagine avvenente e riguardava verlo cerso vente ove l'alma gentil già allocata era che donna fu di sigaia sembianza questo primo sonetto si divide in tre parti nella prima chiamo e sollicito i fedeli d'amore a piangere e dico che lo signore loro piange e dico udendo la cagione perché piange a ciò che s'acconcino più ad ascoltarmi nella seconda narro la cagione nella terza parlo d'alcuno onore che amore fece a questa donna la seconda pare comincia quivi amor sente la terza quivi audite morte villana di pietà nemica di dolor madre antica giudicio incontastabile gravoso poiché hai data materia al cor doglioso un dio vado pensoso di te blasmar la lingua sa fatica e s'io di grazia ti vuoi far mendica convenesi che o dica lo tuo fallar donni torto tortoso non però che alla gente sia nascoso ma per farne cruccioso chi d'amor per chi innanzi si notrica dal secolo hai partita cortesia e ciò che è in donna da pregiar vertute in gaia gioventute distrutta il amorosa leggiadria più non vuoi descobrir qual donna sia che per le proprietà sue canosciute chi non merta salute non speri mai d'aver sua compagnia questo sonetto si divide in quattro parti nella prima chiamo la morte per certi suoi nomi propri nella seconda parlando a lei dico la cagione perché io mi muovo a biasimarla nella terza la vitupero nella quarta mi volgo a parlare a indefinita persona avvegna che quanto allo mio intendimento sia definita la seconda comincia quivi poi che hai data la terza quivi e sio di grazia la quarta quivi chi non merta salute appresso la morte di questa donna al quanti die avvenne cosa per la quale me convenne partire della sopradetta cittade e ire verso quelle parti dove era la gentile donna che era stata mia difesa avvegna che non tanto fosse lontano lo termine dello mio andare quanto ella era e tutto ch'io fosse alla compagnia di molti quanto alla vista l'andare mi dispiacea sì che quasi gli sospiri non poteano disfogare l'angoscia che lo cuore sentia però ch'io mi dilungava della mia beatitudine e però lo dolcissimo signore lo quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna nella mia immaginazione apparve come pregrino leggeramente vestito e di vili drappi e lì mi parea di sbigottito e guardava la terra salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente e chiarissimo lo quale sengia lungo questo cammino la ovvio era a me parve che amore mi chiamasse e dicessemi queste parole io vegno da quella donna la quale è stata tua lunga difesa e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempi e però quello cuore che io ti facea avere a lei io portolo a meco e portolo a donna la quale sarà tua difensione come questa era e nominollami per nome sì che io la conobbi bene ma tuttavia di queste parole che io to ragionate se alcuna cosa ne dicessi dille nel modo che per loro non si discernesse lo simulato amore che tu hai mostrato a questa e che ti converrà a mostrare ad altri e dette queste parole disparve questa mia immaginazione tutta subitamente per la grandissima parte che mi parve che amore mi desse di sé e quasi cambiato nella vista mia cavalcai quel giorno pensoso molto e accompagnato da molti sospiri appresso lo giorno cominciai di ciò questo sonetto lo quale comincia cavalcando cavalcando l'altrier per un cammino pensoso dell'andar che mi sgradia trovai amore in mezzo della via in abito leggier di peregrino nella sembianza mi parea meschino che avesse perduto signoria e sospirando pensoso venia per non vedere la gente a capochino quando mi vide mi chiamò per nome e disse io vegno di lontana parte ov'era lo tuo cor per mio volere e recolo a servir nuovo piacere allora presi di lui sì gran parte che li disparve e non m'accorsi come questo sonetto ha tre parti nella prima parte di così come io trovai amore e quale mi parea nella seconda dico quello che li mi disse avvegna che non compiutamente per tema cavea di descobrire lo mio segreto nella terza dico come li mi disparve la seconda comincia a quivi quando mi vide la terza allora presi appresso la mia ritornata mi misi a cercare di questa donna che lo mio signore m'avea nominata nello cammino degli sospiri e a ciò che lo mio parlare sia più brieve dico che in poco tempo la feci mia difesa tanto che troppa gente ne ragionava oltre li termini della cortesia onde molte fiate mi pensava duramente e per questa cagione cioè di questa soverchievole voce che parea che mi infamasse viziosamente quella gentilissima la quale fu ed istruttrice di tutti gli vizi e regina delle virtudi passando per alcuna parte mi negò lo suo dolcissimo salutare nello quale stava tutta la mia beatitudine e uscendo al quanto del proposito presente voglio dare a intendere quello che lo suo salutare in me virtuosamente operava dico che quando ella paria da parte alcuna per la speranza della mirabile salute nullo nemico mi rimanea anzi mi giugnè una fiamma di caritade la quale mi facea perdonare a chiunque m'avesse offeso e chi allora m'avesse domandato di cosa alcuna la mia risponsione sarebbe stata solamente amore con viso vestito d'umilitade e quando ella fosse alquanto propinqua al salutare uno spirito d'amore distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi pingea fuori gli deboletti spiriti del viso e dice a loro andate a onorare la donna vostra ed ellis rimanea nel luogo loro e chi avesse voluto conoscere amore fare lo potea mirando lo tremare degli occhi miei e quando questa gentilissima salute salutava non che amore fosse tal mezzo che potesse obumbrare a me la intollerabile beatitudine ma elli quasi per soverchio di dolcezza divenia tale che lo mio corpo lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento molte volte si muovea come cosa grave inanimata sì che appare manifestamente che nelle sue salute abitava la mia beatitudine la quale molte volte passava e redondava la mia capacità de ora tornando al proposito dico che poi che la mia beatitudine mi fu e negata mi giunse tanto dolore che partito me dalle genti in solinga parte andai a bagnare la terra da marissime lagrime e poi che alquanto mi fu e sollenato questo lagrimare misimi nella mia camera là ovvio potea lamentarmi senza essere udito e quivi chiamando misricordia la donna della cortesia e dicendo amore aiuta lo tuo fedele ma dormentai come un pargoletto battuto lagrimando avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che me parve vedere nella mia camera lungo me sedere uno giovane vestito di bianchissime vestimenta e pensando molto quanto alla vista sua mi riguardava la ovvio giacea e quando m'avea guardato alquanto pareami che sospirando mi chiamasse e diceami queste parole filimi tempus est ut per termictantur simulacra nostra allora mi parea che io lo conoscesse però che mi chiamava così come assai fiate negli sonni m'avea già chiamato e riguardandolo parvemi che piangesse pietosamente e parea che attendesse da me alcuna parola ondio assegurandomi cominciai a parlare così con esso signore della nobilità de e perché piangi tu e quelli mi dicea queste parole ego tamquam centrum circuli cui simili modo se abente circonferenzi e partes tu autem non sic allora pensando alle sue parole mi parea che mi avesse parlato molto oscuramente sì che io mi sforzava di parlare e dicea lì queste parole che è ciò signore che mi parli con tanta oscurità de e quelli mi dicea in parole volgari non dimandare più che utile ti sia e però cominciai allora con lui a ragionare della salute la quale mi fue negata e domandailo della cagione onde in questa guisa da lui mi fue risposto quella nostra beatrice udio da certe persone di te ragionando che la donna la quale io ti nominai nel cammino degli sospiri ricevea da te alcuna noia e però questa gentilissima la quale contraria di tutte le noie non degnò salutare la tua persona temendo non fosse noiosa onde con ciò sia cosa che veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo secreto per lunga consuetudine voglio che tu dichi certe parole per rima nelle quale tu comprendi la forza che io tegno sopra te per lei e come tu fosti suo tostamente dalla tua puerizia e di ciò chiama testimonio colui che lo sa e come tu prieghi lui che le dica ed io che son quelli volentieri le ne ragionerò e per questo sentirà ella la tua volontà della quale sentendo conoscerà le parole degli ingannati queste parole fa che siano quasi un mezzo sì che tu non parli a lei immediatamente che non è degno e non le mandare in parte senza me ove potessero essere intese da lei ma falle adornare di soave armonia nella quale io sarò tutte le volte che farà mestiere e dette queste parole si disparve e lo mio sonno fu erotto onde io ricordandomi trovai che questa visione m'era apparita nella nona ora del die e anzi chi uscisse di questa camera propuosi di fare una ballata nella quale io seguitasse ciò che lo mio signore m'avea imposto e feci poi questa ballata che comincia ballata i voi ballata i voi che tu ritrovi amore e con lui vade a madonna davante sì che la scusa mia la qual tu cante ragioni poi con lei lo mio signore tu vai ballata sì cortesemente che senza compagnia dovresti avere in tutte parti ardire ma se tu vuoli andar sicuramente retrova la morpria che forse non è buon senza lui gire però che quella che ti dea udire siccome io credo è verdi mea dirata se tu di lui non fossi accompagnata leggeramente ti faria di snore condolze sono quando sei con lui comincia este parole appresso che averai questa pietade madonna quelli che mi manda a voi quando vi piaccia vole sedelli a scusa che la mi intendiate amore qui che per vostra bieltate lo face come vol vista cangiare dunque perché li fece altra guardare pensate il voi da che non mutò il core madonna lo suo core è stato così fermata fede che in voi servir l'ampronto onne pensiero tosto fu vostro e mai non sei smagato se della non ti crede di che domandi amor che sia lo vero e dalla fine falle umil preghero lo perdonare se le fosse annoia che mi comandi permesso che o moia e vedrassi ubbidir ben servidore e di a colui che d'ogni pietà chiave avante che sdonnei che le saprà contar mia ragion bona per grazia della mia nota soave remantu qui con lei e del tuo servo ciò che vuoi ragiona e se la per tuo prego li perdona fa che gli annunzi un bel sembiante pace gentil ballata mia quando ti piace muovi in quel punto che tu naggie onore questa ballata in tre parti si divide nella prima dico a lei o ve la vada e confortola però che vada più sicura e dico nella cui compagnia si metta se vuole sicuramente andare e senza pericolo alcuno nella seconda dico quello che lei si pertiene di fare intendere nella terza la licenzio del gire quando vuole raccomandando lo suo movimento nelle braccia della fortuna la seconda parte comincia quivi condolse sono la terza quivi gentil ballata potrebbe già l'uomo opporre contra me e dicere che non sapesse a cui fosse lo mio parlare in seconda persona però che la ballata non è altro che queste parole che dio parlo e però dico che questo dubbio io lo intendo solvere e dichiarare in questo libello ancora in parte più dubbiosa e allora intenda qui chi dubita o chi qui volesse opporre in questo modo appresso di questa soprascritta visione avendo già dette le parole che amore ma vea imposte a dire mi incominciaro molti e diversi pensamenti a combattere e a tentare ciascuno quasi indefensibilemente tra li quali pensamenti quattro mi parea che ingombrassero più lo riposo della vita l'uno degli quali era questo buona è la signoria d'amore però che trae lo intendimento del suo fedele da tutte le vili cose l'altro era questo non buona è la signoria d'amore però che quanto lo suo fedele più fede li porta tanto più gravi e dolorosi punti li conviene passare l'altro era questo lo nome d'amore è sì dolce a udire che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce conciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose sì come scritto nomina sunt consequentia rerum lo quarto era questo la donna per cui amore ti stringe così non è come le altre donne che leggermente si muova del suo cuore e ciascuno mi combattea tanto chi mi faceva stare quasi come colui che non sa per qual via pigli lo suo cammino e che vuole andare e non sa onde se ne vada e se io pensava di volere cercare una comune via di costoro cioè là dove tutti si accordassero questa era via molto inimica verso me cioè di chiamare e di mettermi nelle braccia della pietà e in questo stato dimorando mi giunse volontade di scriverne parole rimate e dissine allora questo sonetto lo quale comincia tutti li miei pensieri tutti li miei pensieri parlan d'amore e hanno in lorsi gran varietate che altro mi fa voler sua potestate altro folle ragiona il suo valore altro sperando ma porta dolzore altro piangermi fa spesse fiate e sol s'accordano in querer pietate tremando di paura che è nel core ondio non so da qual materia prenda e vorrei dire e non so chi io mi dica così mi trovo in amorosa erranza e se con tutti voi fare accordanza convene mi chiamar la mia nemica madonna la pietà che mi difenda questo sonetto in quattro parti si può dividere nella prima dico e soppongo che tutti li miei pensieri sono d'amore nella seconda dico che sono diversi e narro la loro diversità nella terza dico in che tutti pare che s'accordino nella quarta dico che volendo dire d'amore non so da qual parte pigli materia e se la voglio pigliare da tutti convene che io la chiami la mia inimica madonna la pietade e dico madonna quasi per disdegnoso modo di parlare la seconda parte comincia qui vi e hanno in lor e la terza qui vi e sol s'accordano e la quarta qui vi ondio non so appresso la battaglia degli diversi pensieri avvenne che questa gentilissima venne in parte ove molte donne gentili erano adunate alla qual parte io fui condotto per amica persona credendosi fare a me grande piacere in quanto mi menava là onde tante donne mostravano le loro bellezze onde io quasi non sappiendo a che io fossi menato e fidandomi nella persona la quale uno suo amico all'estremità della vita condotto avea disse a lui perché semmo noi venuti a queste donne allora quelli mi disse per fare sì che le siano degnamente servite e lo vero è che adunate qui vi erano alla compagnia di una gentile donna che disposata era lo giorno e però secondo l'usanza della sopradetta città de convenia che le facessero compagnia nel primo sedere alla mensa che faceano alla magione del suo novello sposo sì che io credendomi fare piacere di questo amico propuosi di stare al servigio delle donne nella sua compagnia e nel fine del mio proponimento mi parve sentire uno mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura la quale circondava questa magione e temendo non altri si fosse accorto del mio tremare levai gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima beatrice allora fuorosi distrutti li miei spiriti per la forza che amore prese veggendomi in tanta propinquitade alla gentilissima donna che non rimasero in vita più che gli spiriti del viso e ancora questi rimasero fuori degli loro strumenti però che amore volea stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna e avvegna che io fossi altro che prima molto mi dolea di questi spiritelli che si lamentavano forte diceano se questi non ci infolgorasse così fuori del nostro luogo noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna così come stanno gli altri nostri pari io dico che molte di queste donne accorgendosi della mia trasfigurazione si cominciarono a maravigliare e ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima onde l'ho ingannato amico di buona fede mi prese per la mano e traendomi fuori della veduta di queste donne si mi domandò che io avesse allora io riposato alquanto e risurressiti li morti spiriti miei e li discacciati rinvenuti alle loro possessioni dissi a questo mio amico queste parole io teni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di ritornare e partitomi da lui mi ritornai nella camera delle lacrime nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea se questa donna sapesse la mia condizione io non credo che così gabbasse la mia persona anzi credo che molta pietà delle ne verrebbe e in questo pianto stando proposi di dire parole nelle quali parlando a lei significasse la cagione del mio trasfiguramento e dicesse che io so bene che quella non è saputa e che se fosse saputa io credo che pietà ne giugnerebbe altrui e propuosile di dire desiderando che venissero per avventura nella sua audienzia e allora dissi questo sonetto lo quale comincia con l'altre donne con l'altre donne mia vista gabbate e non pensate donna onde si muova chi io vi rassembri si figura nova quando riguardo la vostra beltade se lo sapeste non poria pietà da tener più contra me l'usata prova che amor quando si presso a voi mi trova prende baldanza e tanta securtate che fere tra mie spiriti paurosi e quale ancide qual pinge di fore si che solo rimane a veder voi onde io mi cangio in figura d'altrui ma non si chi io non senta bene all'ore li guai degli scacciati tormentosi questo sonetto non divido in parti però che la divisione non si fa se non per aprire la sentenza della cosa divisa onde con ciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto non ha mestiere di divisione vero è che tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto si scrivono dubbiose parole cioè quando dico che amore uccide tutti gli miei spiriti e li visivi rimangono in vita salvo che fuori degli strumenti loro e questo dubbio è impossibile assolvere a chi non fosse in simile grado fedele d'amore e a coloro che vi sono è manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole e però non è bene a me di dichiarare cotale dubitazione a ciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe indarno ovvero di soperchio appresso la nuova trasfigurazione mi giunse uno pensamento forte lo quale poco si partia da me anzi continuamente mi riprendea ed era di cotale ragionamento meco poscia che tu pervieni a così dischernevole vista quando tu sei presso di questa donna perché pur cerchi di vedere lei ecco che tu fossi domandato da lei che avresti da rispondere ponendo che tu avessi libera ciascuna tua virtude in quanto le rispondessi e a costui risponde a un altro umile pensiero e dicea se io non perdessi le mie virtudi e fossi libero tanto che io le potessi rispondere io le direi che si tosto com'io immagino la sua mirabile bellezza si tosto mi giugne uno desiderio di vederla lo quale è di tanta virtude che uccide e distrugge nella mia memoria ciò che contro lui si potesse levare e però non mi ritraggono le passate passioni da cercare la veduta di costei onde io mosso da cotali pensamenti propuosi di dire certe parole nelle quali escusandomi a lei da cotale riprensione ponesse anche di quello che mi diviene presso di lei e dissi questo sonetto lo quale comincia ciò che mi incontra ciò che mi incontra nella mente more quando i vegni a veder voi bella gioia e quando io vi son presso i sento amore che dice fuggi se il perirte annoia lo viso mostra lo color del core che tramortendo ovunque poi s'appoia e per l'ebrietà del gran tremore le pietre parche gridi in moia moia peccato face chi allora mi vide se l'alba sbigottita non conforta sol dimostrando che di me li doglia per la pietà che il vostro gabbo ancide la qual si cria nella vista morta degli occhi che hanno di lor morte voglia questo sonetto si divide in due parti nella prima dico la cagione perché non mi tengo di gire presso di questa donna nella seconda dico quello che mi diviene per andare presso di lei e comincia questa parte quivi e quando io vi son presso e anche si divide questa seconda parte in cinque secondo cinque diverse narrazioni che nella prima dico quello che amore consigliato dalla ragione mi dice quando le sono presso nella seconda manifesto lo stato del cuore per esempio nel viso della terza dico sì come onnesicurtade mi viene meno nella quarta dico che pecca quelli che non mostra pietà di me a ciò che mi sarebbe alcuno conforto nell'ultima dico perché altri dovrebbe avere pietà e ciò è per la pietosa vista che negli occhi mi giugne la quale vista pietosa è distrutta cioè non pare altrui per lo gabbare di questa donna lo quale trae a sua simile operazione coloro che forse vederebbero questa pietà la seconda parte comincia quivi lo viso mostra la terza quivi e per l'ebrietà la quarta peccato face la quinta per la pietà appresso ciò che io dissi questo sonetto mi mosse una volontade di dire anche parole nelle quali io dicesse quattro cose ancora sopra lo mio stato le quali non mi parea che fossero manifestate ancora per me la prima delle quali si è che molte volte io mi dolea quando la mia memoria muovesse la fantasia ad immaginare quale amore mi facea la seconda si è che amore spesse volte di subito ma salìa si forte che me non rimanea altro di vita se non un pensiero che parlava di questa donna la terza si è che quando questa battaglia d'amore mi pugnava così io mi movea quasi discolorito tutto per vedere questa donna credendo che mi difendesse la sua veduta da questa battaglia dimenticando quello che per appropinquare a tanta gentilezza ma divenia la quarta si è come cotale veduta non solamente non mi difendea ma finalmente disconfiggea la mia poca vita e però dissi questo sonetto lo quale comincia spesse fiate spesse fiate spesse fiate vegnomi alla mente le oscure qualità camor mi dona e venmene pietà sì che sovente io dico lasso avviene elli a persona camor massale subitanamente sì che la vita quasi mi abbandona campami uno spirito vivo solamente e queriman perché di voi ragiona poscia mi sforzo che mi voglio atare e così smorto donne valor voto vegno a vedervi credendo guerire e se io levo gli occhi per guardare nel cor mi si comincia uno tremoto che fa depolsi l'anima partire questo sonetto si divide in quattro parti secondo che quattro cose sono in esso narrate e però che non sono di sopra ragionate non mi intrametto se non di distinguere le parti per i loro cominciamenti onde dico che la seconda parte comincia quivi camor la terza quivi poscia mi sforzo la quarta quivi e se io levo poi che dissi questi tre sonetti nei quali parlai a questa donna però che fuoro narratore di tutto quasi lo mio stato credendomi tacere e non dire più però che mi parea di me assai avere manifestato avvegna che sempre poi tacesse di dire a lei a me convenne ripigliare materia nuova e più nobile che la passata e però che la cagione della nuova materia è dilettevole udire la dicerò quanto potrò più brevemente con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo secreto del mio cuore certe donne le quali adunate serano dilettandosi l'una nella compagnia dell'altra sapeano bene lo mio cuore però che ciascuna di loro era stata molte mie sconfitte e io passando appresso di loro siccome dalla fortuna menato fui chiamato da una di queste gentil donne la donna che me aveva chiamato era donna di molto leggiadro parlare sì che quando io fui giunto dinanzi da loro e vidi bene che la mia gentilissima donna non era con esse rassicurandomi le salutai e domandai che piacesse loro le donne erano molte tra le quali ne avea certe che si rideano tra loro altre verano che mi guardavano aspettando che io dovessi dire altre veano che parlavano tra loro delle quali una volgendoli suoi occhi verso me e chiamandomi per nome disse queste parole a che fine ami tu questa tua donna poi che tu dici non puoi sostenere la sua presenza dilloci che certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo e poi che me vedette queste parole non solamente ella ma tutte l'altre cominciaro ad attendere in vista la mia risponsione allora dissi queste parole loro madonne lo fine del mio amore fu e già lo saluto di questa donna forse di cui voi intendete e in quello dimorava la beatitudine che era fine di tutti i miei desideri ma poi che le piacque di negarlo a me lo mio signore amore la sua mercede apposta tutta la sua beatitudine in quello che non mi puote venir meno allora queste donne cominciaro a parlare tra loro e sì come talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve così mi pare a udire le loro parole uscire mischiate di sospiri e poi che alquanto ebbero parlato tra loro anche mi disse questa donna che non avea prima parlato queste parole noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sta questa tua beatitudine ed io rispondendo lei dissico tanto in quelle parole che lodano la donna mia allora mi rispose questa che mi parlava se tu ne dicessi vero quelle parole che tu ne hai dette in notificando la tua condizione avresti operate con altro intendimento onde io pensando a queste parole quasi vergognoso mi partio da loro e venia dicendo fra me medesimo poi che tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna perché altro parlare è stato lo mio e però propuosi di prendere per matera dello mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima e pensando molto a ciò pare a mia vere impresa troppo alta matera quanto a me sì che non ardia di cominciare e così dimorai alquantidì con desiderio di dire e con paura di cominciare avvenne poi che passando per uno cammino lungo lo quale sengia uno rivo chiaro molto a me giunse tanta volontade di dire che io cominciai a pensare lo modo che io tenesse e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mossa e disse donne che avete intelletto d'amore queste parole io ripuosi nella mente con grande letizia pensando di prenderle per mio cominciamento onde poi ritornato alla sopradetta cittade pensando alquantidì e cominciai una canzone con questo cominciamento ordinata nel modo che si vedrà di sotto nella sua divisione la canzone comincia donne cavete donne cavete intelletto d'amore ivo con voi della mia donna dire non per chi io creda sua laude finire ma ragionare per risfogare la mente io dico che pensando il suo valore amor si dolce mi si fa sentire che se io allora non perdessi ardire farei parlando innamorar la gente e io non vo parlarsi altamente che io divenisse per temenza vile ma tratterò del suo stato gentile a rispetto di lei leggeramente donne e donne e donzelle amorose con voi che non è cosa da parlarne altrui angelo clama in divino intelletto e dice essire nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che in fin quassù risplende lo cielo che non ave altro difetto che d'aver lei al suo signor la chiede e ciascun santo ne grida mercede sola pietà nostra parte difende che parla dio che di madonna intende di letti miei or sofferite in pace che vostra spene sia in quanto a me piace l'ave alcun che perder lei s'attende e che dirà nello inferno o malnati io vidi la speranza dei beati madonna e disiata insommo cielo or voi di sua virtù farvi sapere dico qual vuol gentil donna parere vada con lei e quando va per via gitta nel cor villani amore un gelo che per onne lor pensiero agghiaccia e pere e qual soffrisse di starla a vedere diverria nobil cosa o si morria e quando trova alcun che degno sia di veder lei quei prova sue virtute che gli avvien ciò che li dona in salute e si l'umilia con gli offesa oblia ancora la dio per maggior grazia dato che non può mal finir chi l'ha parlato dice di lei amor cosa mortale come esser può si adorna e si pura poi la riguarda e fra se stesso giura che dio ne intenda di far cosa nova color di perle a quasi in forma quale convene a donna aver non for misura e lei quanto de ben può far natura pare semplo di lei bieltà si prova degli occhi suoi come la limova escono spiriti d'amore inflammati che feron gli occhi a qualche allor laguati e passanzì che il cor ciascun retrova voi le vedete amor pinto nel viso là ove non pote alcun mirarla fisso canzone io so che tu girai parlando a donne assai quando io t'avrò avanzata or t'ammonisco per chi io t'ho allevata per figliuola d'amor giovane e piana che l'ave giugni tu diche pregando insegnatemi gir chi io son mandata a quella di cui laude so adornata e se non vuoli andarsi come vana non restare ove sia gente villana ingegnati se puoi d'esser palese solo con donne o con uomo cortese che ti merranno là per via toscana tu troverai amor con esso lei raccomandami a lui come today questa canzone a ciò che sia meglio intesa la dividerò più artificiosamente che le altre cose di sopra e però prima ne fo tre parti la prima parte è proemio delle seguenti parole la seconda è lo intento trattato la terza è quasi una serviziale delle precedenti parole la seconda comincia quivi angelo clama la terza quivi canzone io so che la prima parte si divide in quattro nella prima dico a cui io dicer voglio della mia donna e perché io voglio dire nella seconda dico quale me pare avere a me stesso quando io penso lo suo valore e come io direi se io non perdessi l'ardimento nella terza dico come credo dire di lei a ciò che io non sia impedito da viltà nella quarta ridicendo anche a cui ne intenda dire dico la cagione perché dico a loro la seconda comincia quivi io dico la terza quivi e io non vo parlare la quarta donne e donzelle poscia quando dico angelo clama comincio a trattare di questa donna e dividesi questa parte in due nella prima dico che di lei si comprende in cielo nella seconda dico che di lei si comprende in terra quivi madonna e desiata questa seconda parte si divide in due che nella prima dico di lei quanto dalla parte della nobiltà della sua anima narrando alquanto delle sue virtuti effettive che della sua anima procedeano nella seconda dico di lei quanto dalla parte della nobiltà del suo corpo narrando alquanto delle sue bellezze quivi dice di lei amor questa seconda parte si divide in due che nella prima dico dal quante bellezze che sono secondo tutta la persona nella seconda dico dal quante bellezze che sono secondo determinata parte della persona quivi degli occhi suoi questa seconda parte si divide in due che nell'una dico degli occhi li quali sono principio d'amore nella seconda dico della bocca la quale è fine d'amore e a ciò che quinci si lievi ogni vizioso pensiero ricordisi chi ci legge che di sopra è scritto che lo saluto di questa donna lo quale era delle operazioni della bocca sua fue fine degli miei desideri perché io lo potrei ricevere poscia quando dico canzone io so che tu aggiungo una stanza quasi come ancella dell'altra nella quale dico quello che di questa mia canzone desidero e però che questa ultima parte è lieve a intendere non mi travaglio di più divisioni dico bene che a più aprire lo intendimento di questa canzone si converrebbe usare di più minute divisioni ma tuttavia chi non è di tanto ingegno che per queste che sono fatte la possa intendere a me non dispiace se la mi lascia stare che certo io temo d'avere a troppi comunicato lo suo intendimento pur per queste divisioni che fatte sono se li addivenisse che molti le potessero udire appresso che questa canzone fue alquanto divulgata tra le genti con ciò fosse cosa che alcuno amico l'udisse volontade lo mosse a pregare me che io li dovesse dire che è amore avendo forse per l'udite parole speranza di me oltre che degna onde io pensando che appresso di cotale trattato bello era trattare alquanto d'amore e pensando che l'amico era da servire proposi di dire parole nelle quali io trattassi d'amore e allora dissi questo sonetto lo qual comincia amore e il cor gentil amore e il cor gentil sono una cosa siccome il saggio in suo dittare pone e così esser l'un senza l'altro osa come alma razional senza ragione falli natura quando è amorosa amor per sire e il cor per sua magione dentro la qual dormendo si riposa tal volta poca e tal lunga stagione bieltate appare in saggia donna pui che piace agli occhi sì che dentro al core nasce un disio della cosa piacente e tanto dura talora in costui che fa svegliarlo spirito d'amore e simil face in donna omo valente questo sonetto si divide in due parti nella prima dico di lui in quanto è in potenzia nella seconda dico di lui in quanto di potenzia si riduce in atto la seconda comincia qui vi bieltate appare la prima si divide in due nella prima dico in che soggetto sia questa potenzia nella seconda dico sì come questo soggetto e questa potenzia siano prodotti in essere e come l'uno guarda l'altro come forma materia la seconda comincia qui vi falli natura poscia quando dico bieltate appare dico come questa potenzia si riduce in atto e prima come si riduce in uomo poi come si riduce in donna qui vi e simil face in donna poscia che trattai d'amore nella sopra scritta rima venne mi volontate di volere dire anche in loda di questa gentilissima parole per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là ove dorme ma là ove non è in potenzia ella mirabilmente operando lo fa venire e allora dissi questo sonetto lo quale comincia negli occhi porta negli occhi e cui saluta fa tremarlo core sì che bassando il viso tutto smore ed ogni suo difetto allor sospira fugge dinanzi a lei superbia e tira aiutatemi donne a farle onore ogni dolcezza ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlarla sente onde è laudato chi prima la vide quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente sia il nuovo miracolo e gentile questo sonetto sia a tre parti nella prima dico sì come questa donna riduce questa potenzia in atto secondo la nobilissima parte degli suoi occhi e nella terza dico questo medesimo secondo la nobilissima parte della sua bocca e intra queste due parti è una particella che quasi domandatrice d'aiuto e la precedente parte alla sequente e comincia quivi aiutatemi donne la terza comincia quivi ogni dolcezza la prima si divide in tre che nella prima parte di così come virtuosamente fa è gentile tutto ciò che vede e questo è tanto a dire quanto inducere amore in potenzia là ove non è nella seconda dico come reduce in atto amore nei cuori di tutti coloro cui vede nella terza dico quello che poi virtuosamente adopera nello cuori la seconda comincia quivi ove la passa la seconda quivi e cui saluta poscia quando dico aiutatemi donne do a intendere a cui la mia intenzione è di parlare chiamando le donne che mi aiutino onorare costei poscia quando dico ogni dolcezza dico questo medesimo che detto è nella prima parte secondo due atti della sua bocca l'uno dei quali è lo suo dolcissimo parlare l'altro è lo suo mirabile riso salvo che non dico di questo ultimo come ad opera nelli cuori altrui però che la sua memoria non può ritenere lui né sua operazione appresso ciò non molti di passati sì come piacque al glorioso sire lo quale non negò e la morte a sé colui che era stato genitore di tanta maraviglia quanta si vedea che era questa nobilissima beatrice di questa vita uscendo alla gloria eternale se ne giio veracemente onde con ciò sia cosa che cotale partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va e nulla sia si intima amistade come da buon padre a buon figliuolo e da buon figliuolo a buon padre e questa donna fosse in altissimo grado di bontade e lo suo padre sì come da molti si crede e vero è fosse buono in alto grado manifesto è che questa donna fu e amarissimamente piena di dolore e con ciò sia cosa che secondo l'usanza della sopradetta cittade donne con donne uomini con uomini sadunino a cotale tristizia molte donne sadunaro colà dove questa beatrice piangea pietosamente onde io veggendo ritornare alquante donne da lei udio dicere loro parole di questa gentilissima come la si lamentava tra le quali parole udio che diceano certo ella piange sì che quale la mirasse dovrebbe morire di pietade allora trapassaro queste donne e io rimase in tanta tristizia che alcuna lacrima talora bagnava la mia faccia onde io mi ricopria a comporre le mani spesso agli miei occhi e se non fosse che io attende a udire anche di lei però che io era in luogo onde se negiano la maggiore parte di quelle donne che da lei si partiano io mi sarei nascoso incontamente che le lacrime m'aveano assalito e però dimorando ancora nel medesimo luogo donne anche passaro presso di me le quali andavano ragionando tra loro queste parole chi deve mai essere lieta di noi che avemo udita parlare questa donna così pietosamente appresso costoro passaro altre donne che veniano dicendo questi che qui piange né più nemmeno come se l'avesse veduta come noi avemo altre di poi diceano di me vedi questi che non pare esso tale divenuto e così passando queste donne udio parlare di lei e di me in questo modo che detto è onde io poi pensando proposi di dire parole a ciò che degnamente avea cagione di dire nelle quali parole io conchiudesse tutto per ciò che inteso avea da queste donne e però che volentieri l'avrei domandate se non mi fosse stata riprensione presi tanta matera di dire come se io l'avesse domandate e delle m'avessero risposto e feci due sonetti che nel primo domando in quello modo che voglia mi giunse di domandare nell'altro dico la loro risponsione pigliando ciò chiudio da loro siccome lo mi avessero detto rispondendo e comincia lo primo voi che portate la sembianza umile e l'altro se tu colui che ci hai trattato sovente voi che portate la sembianza umile con gli occhi bassi mostrando dolore onde venite che il vostro colore par divenuto di pietà simile vedeste voi nostra donna gentile bagnar nel viso suo di pianto amore dite il mi donne che il mi dice il core per chi io vi veggo andar senza atto vile e se venite da tanta pietade piacciavi di restare qui meco alquanto e qualche sia di lei non mi celate io veggio gli occhi vostri che hanno pianto e veggiovi tornarsi sfigurate che il cor mi triema di vederne tanto questo sonetto si divide in due parti nella prima chiamo e domando queste donne se veniono da lei dicendo loro che io lo credo però che tornano quasi in gentilite nella seconda le prego che mi dicano di lei la seconda comincia qui vi e se venite qui appresso e l'altro sonetto siccome dinanzi l'avemo narrato se tu colui che hai trattato sovente di nostra donna sol parlando a noi tu risomiglia la voce ben lui ma la figura ne par da altra gente e perché piangi tu sicuralmente che fai di te pietà venire altrui vedest tu pianger lei che tu non puoi punto celarla dolorosamente lascia piangere noi e triste andare e fa peccato chi mai ne conforta che nel suo pianto ludimmo parlare e la nel viso la pietà si scorta che qual l'avesse voluta mirare sarebbe innanzi lei piangendo morta questo sonetto a quattro parti secondo che quattro modi di parlare ebbero in loro le donne per cui rispondo e però che sono di sopra assai manifesti non mi intrametto di narrare la sentenza delle parti e però le distinguo solamente la seconda comincia qui vi e perché piangi la terza lascia pianger noi la quarta e la nel viso appresso ciò per pochi dì avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade onde io continuamente soffersi per nove dì amarissima pena la quale mi condusse a tanta debolezza che me convenia stare come coloro li quali non si possono muovere io dico che nello nono giorno sentendome dolere quasi intollerabile mente a me giunse uno pensiero lo quale era della mia donna e quando ei pensato al quanto di lei ed io ritornai pensando alla mia debilitata vita e veggendo come leggiero era lo suo durare allora che sana fosse sì cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria onde sospirando forte dicea fra me medesimo di necessità convene che la gentilissima beatrice alcuna volta si muoia e però mi giunse uno sì forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a immaginare in questo modo che nello incominciamento dell'orrare che fece la mia fantasia apparvero a me certi visi di donne scapigliate che mi diceano tu pur morrai e poi dopo queste donne mi apparvero certi visi diversi e orribili a vedere li quali mi diceano tu sei morto così cominciando ad errare la mia fantasia venni a quello che io non sapea onde io mi fosse e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via maravigliosamente triste e pareami vedere lo sole oscurare sì che le stelle si mostravano di colore che le mi faceano giudicare che piangessero e pareami che gli uccelli volando per l'aria cadessero morti e che fossero grandissimi tremuoti e maravigliandomi dico tale fantasia e paventando assai immaginai alcun amico che mi venisse a dire or non sai la tua ammirabile donna è partita di questo secolo allora cominciai a piangere molto pietosamente e non solamente piangea nella immaginazione ma piangea con gli occhi bagnandoli di vere lacrime io immaginava di guardare verso lo cielo e pareami vedere moltitudine d'angeli li quali tornassero in suso e aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima a me parea che questi angeli cantassero gloriosamente e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste osanna in excelsis e altro non mi parea udire allora mi parea che lo cuore ove tanto era amore mi dicesse vero è che è morta già c'è la nostra donna e per questo mi parea andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima e fu e si forte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta e pareami che donne la covrissero e cioè la sua testa con uno bianco velo e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umilitade che prea che dicesse io sono a vedere lo principio della pace in questa immaginazione mi giunse tanta umilitade per vedere lei che io chiamava la morte dicea dolcissima morte vieni a me e non m'esser villana però che tu dei essere gentile in tal parte se stata or vieni a me che molto ti desidero e tu lo vedi che io porto giallo tuo colore e quando io avea veduto compiere tutti gli dolorosi misteri che alle corpora degli morti s'usano di fare mi parea tornare nella mia camera e qui vi mi parea guardare verso lo cielo e si forte era la mia immaginazione che piangendo incominciai a dire con verace voce oi anima bellissima come beato colui che ti vede e dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto e chiamando la morte che venisse a me una donna giovane gentile la quale era lungo lo mio letto credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia infermitate con grande paura cominciò a piangere onde altre donne che per la camera erano si accorsero a me che io piangea per lo pianto che vedeano fare a questa onde facendo lei partire da me la quale rameco di propinquissima sanguinità decongiunta e le si trassero verso di me per isvegliarmi credendo che io sognasse dice a me non dormire più e non ti sconfortare e parlandomi così si mi cessò la forte fantasia entro quello punto che io solea dicere o beatrice benedetta si e tu e già detto avea o beatrice quando riscotendo mi ha persi gli occhi e vidi che io era ingannato e con tutto che io chiamasse questo nome la mia voce era si rotta dal singulto del piangere che queste donne non mi pottero intendere secondo il mio parere e avvegna che io vergognasse molto tuttavia per alcuno ammonimento d'amore mi rivolsi a loro e quando mi videro cominciaro a dire questi pare morto e a dire tra loro procuriamo di confortarlo onde molte parole mi diceano da confortarmi e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura onde io essendo alquanto riconfortato e conosciuto lo fallace immaginare risposi a loro io vi dirò e quello che io ho e avuto allora cominciandomi dal principio infino alla fine dissi loro quello che veduto avea tacendo lo nome di questa gentilissima onde poi sanato di questa infirmitate propuosi di dire parole di questo che m'era divenuto però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire e però che ne dissi questa canzone donna pietosa e di novella etate ordinata sì come manifesta la infrascritta divisione donna pietosa e di novella etate adorna assai di gentilezze umane era la chi io vi chiamava spesso morte veggendo gli occhi miei pien di pietade e ascoltando le parole vane si mosse con paura a pianger forte e altre donne che si fuor accorte di me per quella che me copiangia fecer lei partir via appressarsi per farmi sentire qual dicea non dormite e qual dicea perché si ti sconforte allora lassai la nuova fantasia chiamando il nome della donna mia era la voce mia si dolorosa e rotta si dall'angoscia del pianto che io solo intesi il nome nel mio core e con tutta la vista vergognosa che era nel viso mio giunta cotanto mi fece verso lor volgere amore e lì era tale a veder mio colore che facea ragionare di morte altrui de consoliam costui pregava l'una l'altra umilemente e diceva ansovente che vedest tu che tu non hai valore e quando un poco confortato fui io dissi donne e dicerollo a voi mentre io pensava la mia frale vita e vede al suo durar come leggero pianse mi amor nel core ove dimora perché l'anima mia fu si smarrita che sospirando dicea nel pensero ben converrà che la mia donna mora io presi tanto smarrimento allora che io chiusi gli occhi vilmente gravati e furon si smagati gli spiriti miei che ciascun giva errando e poscia immaginando di caunoscenza e di vertà fora visi di donne ma parver crucciati che mi dicean pur morati morati poi vidi cose dubbiose molt nel vano immaginario vio entrai ed essermi parea non so in qual loco e veder donne andar per via disciolte qual lagrimando e qual traendo guai che di tristizia saettavan foco poi mi parve vedere a poco a poco turbar lo sole e apparir la stella e pianger elli ad ella caderli augelli volando per l'aerea e la terra a tremare ed omo apparve scolorito e fioco dicendomi che fai non sai novella morta è la donna tua che era si bella levava gli occhi miei bagnati impianti e vedea che parean pioggia di manna gli angeli che tornavan suso in cielo e una nuvoletta vean davanti dopo la qual gridavan tutti osanna e s'altro avesser detto a voi direlo allora diceva amor più non ti cielo vieni a veder nostra donna che giace lo immaginar fallace mi condusse a veder madonna morta e quand'io l'avea scorta vedea che donne la covriand'un velo che avea seco umilità verace che parea che dicesse io sono in pace io divenia nel dolor si umile che veggendo in lei tanta umiltà formata ch'io dicea morte assai dolce ti tegno ma tu dei ormai esser cosa gentile poi che tu sei nella mia donna stata e dei aver pietate e non disdegno vedi che si desideroso vegno d'esser de tuoi ch'io ti somiglio in fede vieni che il corte chiede poi mi partia consumato ogni eduolo e quand'io era solo dicea guardando verso l'alto regno beato anima bella chi te vede voi mi chiamaste allora vostra mercede questa canzone ha due parti nella prima dico parlando a indefinita persona come io fui levato d'una vana fantasia da certe donne e come promisi loro di dirla nella seconda dico com'io dissi a loro la terza comincia qui vi mentre io pensava la prima parte si divide in due nella prima dico quello che certe donne e che una sola dissero e fecero per la mia fantasia quanto è dinanzi che io ho tornato in verace condizione nella seconda dico quello che queste donne mi dissero poi che io lasciai questo farneticare e comincia questa parte qui vi era la voce mia poscia quando io dico mentre io pensava dico com'io dissi loro questa mia immaginazione ed intorno a ciò foe due parti nella prima dico per ordine questa immaginazione nella seconda dicendo a che ora mi chiamaro le ringrazio chiusamente e comincia qui vi questa parte voi mi chiamaste appresso questa vana immaginazione avvenne uno die che sedendo io pensoso in alcuna parte ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel core così come se io fosse stato presente a questa donna allora dico che mi giunse una immaginazione d'amore che mi parve vederlo venire da quella parte ove la mia donna stava e parea mi che lietamente mi dicesse nel cor mio pensa di benedicere lo di che io ti presi però che tu lo dei fare e certo me pare avere lo cuore si lieto che me non parea che fosse lo mio cuore per la sua nuova condizione e poco dopo queste parole che lo cuore mi disse con la lingua d'amore io vi di venire verso me una gentile donna la quale era di famosa bieltade e fue già molto donna di questo primo mio amico e lo nome di questa donna era giovanna salvo che per la sua bieltade secondo che altri crede imposto l'era nome primavera e così era chiamata e appresso lei guardando vi di venire l'amirabile beatrice queste donne andaro presso di me così l'una appresso l'altra e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse questa prima è nominata primavera solo per questa venuta d'oggi che io mossi lo imponitore del nome a chiamarla così primavera cioè prima verrà lo die che beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele e se anche vogli considerare lo primo nome suo tanto è quanto dire prima verrà però che lo suo nome giovanna e da quello giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo ego vox clamantis in deserto paratevi am domini ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole e chi volesse sottilmente considerare quella beatrice chiamerebbe amore per molta simiglianza che ammeco onde io poi ripensando propuosi di scrivere per rima lo mio primo amico tacendomi certe parole le quali pare andrà tacere credendo che io ancora lo suo cuore mirasse la bieltade di questa primavera gentile e dissi questo sonetto lo quale comincia io mi sentì svegliare io mi sentì svegliare dentro lo cuore un spirito amoroso che dormia e poi vidi venire da lungi amore allegro sì che appena il conoscia dicendo or pensa pur di farmi onore e in ciascuna parola sua ridia e poco stando meco il mio signore guardando in quella parte onde venia io vidi monna vanna e monna bice venire in verlo loco la ovio era l'una presso dell'altra maraviglia e sì come la mente mi ridice amor mi disse quelle primavera e quella nome amor sì mi somiglia questo sonetto a molte parti la prima delle quali dice come io mi sentì svegliare lo tremore usato nel cuore e come parve camore ma parisse allegro nel mio cuore da lunga parte la seconda dice come me parea che amore mi dicesse nel mio cuore e quale mi parea la terza dice come poi che questi fue alquanto stato meco cotale io vidi e udio certe cose la seconda parte comincia quivi dicendo or pensa la terza quivi e poco stando la terza parte si divide in due nella prima dico quello che io vidi e nella seconda dico quello che io udio la seconda comincia quivi amor mi disse potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle onne dubitazione e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé e non solamente sostanzia intelligente ma sì come fosse sostanzia corporale la quale cosa secondo la verità è falsa che amore non è per sé sì come sostanzia ma è uno accidente in sostanzia e che io dica di lui come se fosse corpo allora sì come se fosse uomo appare per tre cose che dico di lui dico che lo vidi venire onde con ciò sia cosa che venire dica moto locale e localmente mobile per sé secondo lo filosofo sia solamente corpo appare che io ponga amore essere corpo dico anche di lui che ridea e anche che parlava le quali cose paiono essere proprie dell'uomo e spezialmente essere risibile e però appare chi opponga lui essere uomo a cotale cosa dichiarare secondo che buono a presente prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina tra noi dico avvegna forse che tra altra gente addivenisse non avvegna ancora siccome in grecia non volgari ma litterati poete queste cose trattavano e non è molto numero d'anni passati che apparirò prima questi poete volgari che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino secondo alcuna proporzione e segno che sia picciolo tempo è che se volemo cercare in lingua d'oco e in quella di sì noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni e la cagione perché alquanti grossi ebbero fama di saper dire è che quasi fuori i primi che dissero in lingua di sì e lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna alla quale era malagevole di intendere i versi latini e questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa conciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore onde conciò sia cosa che alipoete sia conceduta maggiore licenza di parlare che aliprosaici dittatori e questi dicitori per rima non siano altro che poete volgari degno e ragionevole e che a loro sia maggiore licenza allargita di parlare che agli altri parlatori volgari onde se alcuna figura o colore rettorico è concesso alipoete conceduto e alirimatori dunque se noi vedemo che li poete hanno parlato alle cose inanimate sì come se avessero senso e ragione e fattele parlare insieme non solamente cose vere ma cose non vere cioè che detto hanno di cose le quali non sono che parlano e detto che molti accidenti parlano sì come se fossero sostanze e uomini degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante ma non senza ragione alcuna ma con ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa che li poete abbiano così parlato come detto è appare per virgilio lo quale dice che junio cioè una dea nemica degli troiani parlò e ad eolo signore degli venti quivi nel primo della ineida e o le nam que tibi e che questo signore le rispose quivi tus o regina quid optes explorare labor micius capessere fas est per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata e le cose animate nel secondo dello ineida quivi dardanide duri per lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata quivi multum roma tamen debes civilibus armis per orazio parla l'uomo alla scienza medesima sì come ad altra persona e non solamente sono parole d'orazio ma dicele quasi recitando lo modo del buono omero quivi nella sua poetria dic mici musa virum per ovidio parla amore sì come se fosse persona umana nello principio dello libro che a nome libro di rimedio d'amore quivi bella mici video bella paretur ait e per questo può essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello e a ciò che non ne piglie alcuna bandanza persona grossa dico che né li poete parlavano così senza ragione né quelli che rimano deono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono però che grande vergogna sarebbe a colui che rimanesse cose sotto vesta di figura o di colore rettorico e poscia domandato non sapesse desnudare le sue parole da cotale vesta in guisa che avessero verace intendimento e questo mio primo amico e io ne sappiamo bene di quelli che così rimano stoltamente questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei onde mirabile letizia me ne giungea e quando ella fosse presso d'alcuno tanta onestà de giungea nel cuore di quello che non ardia di levare gli occhi né di rispondere allo suo saluto e di questo molti sì come esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse e la coronata e vestita ad umilitade sandava nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e udia diceano molti poi che passata era questa non è femmina anzi è uno degli bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una meraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabile mente sai ad operare io dico che la si mostrava si gentile e si piena di tutti gli piaceri che quelli che la miravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto che ridicere non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la poteano sensibilemente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere allora dissi questo sonetto lo quale comincia tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando è l'altrui saluta che ogni lingua de ventre mando muta e li occhi no l'ardiscon di guardare e la si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova e par che delle sue labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto è si piano ad intendere per quello che narrato è di anzi che non ha bisogno ad alcuna divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte on dio veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea proposi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente onne salute lo quale narra di lei come la sua virtute adoperava nelle altre siccome appare nella sua divisione vede perfettamente onne salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia dio render mercede e sua bieltate di tanta virtute che nulla invidia all'altre ne procede anzi le face andar seco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa onne cosa umile e non fa sola separer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun la si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto a tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico sì come era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sua bieltate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente nelle donne ma in tutte le persone non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilemente operava la seconda comincia quivi la vista sua la terza quivi ed è negli atti appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e veggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo adoprava in me parea mi defettivamente avere parlato e però propuosi di dire parole nelle quali io dicesse come me parea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude e non credendo potere ciò narrare in brevità di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia si lungiamente si lungiamente ma tenuto amore e costumato alla sua signoria che si comelli m'era forte in pria così mi sta soave ora nel core però quando mi tolle si il valore che gli spiriti par che fugga in via allora sente la frale anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore poi prende amore in me tanta vertute che fa li miei spiriti gir parlando ed è sconfor chiamando la donna mia per darmi più salute questo m'avvene ovunque ella mi vede e si è cosa umil che non si crede io era nel proponimento ancora di questa canzone compiuta navea questa soprascritta stanzia quando lo signore della giustizia chiamò e questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo maria lo cui nome fue in grandissima reverenzia nelle parole di questa beatrice beata e avvegna che forse piacerebbe a presente trattare alquanto della sua partita da noi non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni la prima è che ciò non è del presente proposito se volemo guardare nel proemio che procede questo libello la seconda si è che posto che fosse del presente proposito ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò la terza si è che posto che fosse l'uno e l'altro non è convenevole a me trattare di ciò per quello che trattando converrebbe essere me laudatore di me medesimo la quale cosa è al post tutto biasimevole a chi lo fa e però lascio cotale trattato ad altro chiusatore tuttavia però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole dinanzi onde pare che sia non senza ragione e nella sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo convenesi di dire quindi alcuna cosa a ciò che pare al proposito convenirsi onde prima dicerò come ebbe luogo nella sua partita e poi n'assegnerò alcuna ragione perché questo numero fue a lei cotanto amico io dico che secondo l'usanza d'arabia l'anima sua nobilissima si partìo nella prima ora del nono giorno del mese e secondo l'usanza di siria ella si partìo nel nono mese dell'anno però che lo primo mese è ivi tisirin primo lo quale a noi è ottobre e secondo l'usanza nostra ella si partìo in quello anno della nostra indizione cioè degli anni domini in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in questo mondo ella fue posta ed ella fue degli cristiani del terzo decimo centinaio perché questo numero fosse intanto amico di lei questa potrebbe essere una ragione conciò sia cosa che secondo tolomeo e secondo la cristiana veritade nove siano li cieli che si muovono e secondo comune opinione astrologa li detti cieli adoperino qua giuso secondo la loro abitudine insieme questo numero fue amico di lei per dare ad intendere nella sua generazione tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme questa è una ragione di ciò ma più sottilmente pensando e secondo la infallibile veritade questo numero fue ella medesima per similitudine dico e ciò intendo così lo numero del tre è la radice del nove però che senza numero altro alcuno per sé medesimo fa nove siccome vedremo manifestamente che tre via tre fa nove dunque se lo tre è fattore per sé medesimo del nove e lo fattore è per sé medesimo degli miracoli e tre cioè padre e figlio e spirito santo li quali sono tre e uno questa donna fu accompagnata da questo numero del nove a dare ad intendere che quella era uno nove cioè uno miracolo la cui radice cioè del miracolo è solamente la mirabile trinitade forse ancora per più sottile persona si vedrebbe in ciò più sottile ragione ma questa è quella che io ne veggio e che più mi piace poi che fue partita da questo secolo rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitade onde io ancora lagrimando in questa desolata cittade scrissi a li principi della terra al quanto della sua condizione pigliando quello cominciamento di geremia profeta che dice cuo modo sedet sola civitas e questo dico a ciò che altri non si maravigli perché io l'abbia allegato di sopra quasi come entrata della nuova materia che ha presso bene e se alcuno volesse me riprendere di ciò che io non scrivo qui le parole che seguitano a quelle allegate e scusomene però che lo intendimento mio non fue dal principio di scrivere altro che per volgare onde conciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate siano tutte latine e sarebbe fuori del mio intendimento se le scrivessi e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico a cui io ciò scrivo cioè che io li scrivessi solamente volgare poiché i miei occhi ebbero per alquanto tempo lagrimato e tanto affaticati erano che non poteano disfogare la mia tristizia pensai di volere disfogarla con alquante parole dolorose e però propuosi di fare una canzone nella quale piangendo ragionassi di lei per cui tanto dolore era fatto distruggitore dell'anima mia e cominciai allora una canzone la qual comincia gli occhi dolenti per pietà del core e a ciò che questa canzone paia rimanere più vedova dopo lo suo fine lo dividerò prima che io lo scriva e cotale modo terrò da qui innanzi io dico che questa cattivella canzone ha tre parti la prima è proemio nella seconda ragiono di lei e nella terza parlo alla canzone pietosamente la seconda parte comincia qui vi ita ne beatrice la terza qui vi pietosa mia canzone la prima parte si divide in tre nella prima dico perché io mi muovo a dire nella seconda dico a cui io voglio dire nella terza dico di cui io voglio dire la seconda comincia qui vi e perché mi ricorda la terza qui vi e di nascerò poscia quando dico ita ne beatrice ragiono di lei e intorno a ciò foe due parti prima dico la cagione che per tolta ne fue appresso dico come altri si piange della sua partita e comincia questa parte qui vi partissi della sua questa parte si divide in tre nella prima dico chi non la piange nella seconda dico chi la piange nella terza dico della mia condizione la seconda comincia qui vi ma ven tristizia e voglia la terza qui vi danno mi angoscia poscia quando dico pietosa mia canzone parlo a questa canzone disegnando le a quali donne se ne vada e steasi con loro gli occhi dolenti per pietà del core hanno di lagrimar sofferta pena sì che per vinti son remasi ormai ora si voglio sfogarlo dolore che a poco a poco alla morte mi mena convene mi parlar traendo guai e perché mi ricorda che io parlai della mia donna mentre che vivia donne gentil volentier con voi non vuoi parlare altrui se non accor gentil che in donna sia e dicerò di lei piangendo poi che si negita in ciel subitamente e ha lasciato amor me codolente ita né beatrice in l'alto cielo nel reame ove gli angeli hanno pace e sta con loro e voi donne allassate non la citolse qualità di gelo né di calore come l'altre face ma solo fue sua gran benignitate che luce della sua umilitate passò li cieli con tanta vertute che fe maravigliar l'eterno sire sì che dolce disire lo giunse di chiamar tanta salute e fella di qua giù a sé venire perché vedea che sta vita noiosa non era degno di si gentil cosa partissi della sua bella persona piena di grazia l'anima gentile ed essi gloriosa in loco degno chi non la piange quando ne ragiona corea di pietra sì malvagio e vile che entrarno i puote spirito benegno non è di cor villan sì alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto e però non li vendi pianger doglia me ven tristezza e voglia di sospirare di morir di pianto e donne consolar l'anima spoglia chi vede nel pensiero alcuna volta quale ella fue e com'ella ne tolta danno mi angoscia li sospiri forte quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che al cor di viso e spesse fiate pensando la morte veneme un disio tanto soave che mi tramuta lo color nel viso e quando l'imaginar mi ven ben fiso giugnemi tanta pena d'ogne parte ch'io mi riscuoto per dolor chi sento e sì fatto di vento che dalle genti vergogna mi parte poscia piangendo sol nel mio lamento chiamo beatrice dico or sei tu morta e mentre ch'io la chiamo me conforta pianger di doglia e sospirar d'angoscia mi strugge il core ovunque sol mi trovo sì che increscerebbe a chi ma udesse e quale è stata la mia vita poscia che la mia donna andò nel secolo nuovo lingua non è che dicer lo sapesse e però donne mie purch'io volesse non vi saprei io dir ben quel ch'io sono si mi fa travagliar la cerba vita la quale è sì invilita cognon par che mi dica io t'abbandono veggendo la mia labbia tramortita ma qual ch'io sia la mia donna il si vede e io ne spero ancora da lei mercede pietosa mia canzone or va piangendo ritrova le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portare letizia e tu che sei figliuola di tristizia vatten disconsolata star con elle poi che detta fue questa canzone si venne a me uno lo quale secondo gli gradi dell'amistade e amico di me immediatamente dopo lo primo e questi fue tanto distretto di sanguinità de con questa gloriosa che nullo più presso l'era e poi che fue meco a ragionare mi prego e ch'io li dovessi dire alcuna cosa per una donna che sera morta e simulava sue parole a ciò che paresse che dicesse d'un'altra la quale morta era certamente onde io accorgendomi che questi dicea solamente per questa benedetta si gli dissi di fare ciò che mi domandava lo suo prego onde poi pensando a ciò propuosi di fare uno sonetto nel quale mi lamentasse alquanto e di darlo a questo mio amico a ciò che paresse che per lui l'avessi fatto e dissi allora a questo sonetto che comincia venite a intenderli sospiri miei lo quale a due parti nella prima chiamo li fedeli d'amore che mi intendano nella seconda narro della mia misera condizione la seconda comincia quivi li qua i disconsolati venite a intenderli sospiri miei o i cor gentili che pietal disia li qua i disconsolati vanno via e se non fosser di dolor morrei però che gli occhi mi sarebbe rei molte fiate più che io non vorria lasso di piangersi la donna mia che sfogasser lo cor piangendo lei voi udirete lor chiamar sovente la mia donna gentil che sin agita al secol degno della sua vertute e dispregiar talora questa vita in persona dell'anima dolente abbandonata dalla sua salute poi che detto ei questo sonetto pensando mi che questi era a cui lo intende a dare quasi come per lui fatto vidi che povero mi pare allo servigio a nudo e a così distretta persona di questa gloriosa e però anzich'io li dessi questo soprascritto sonetto si dissi due stanzi ed una canzone l'una per costui veracemente e l'altra per me avvegna che paia l'una e l'altra per una persona detta a chi non guarda sottilmente ma chi sottilmente la mira vede bene che diverse persone parlano a ciò che l'una non chiama sua donna costei e l'altra si come appare manifestamente questa canzone e questo soprascritto sonetto li diedi dicendo io lui che per lui solo fatto la vea la canzone comincia quantunque volte e da due parti nell'una cioè nella prima stanzia si lamenta questo mio caro e distretto a lei e nella seconda mi lamento io cioè nell'altra stanzia che comincia e si raccoglie negli miei e così appare che in questa canzone si lamentano due persone l'una delle quali si lamenta come frate l'altra come servo quantunque volte lasso mi rimembra ch'io non debbo già mai veder la donna un dio vossi dolente tanto dolore intorno al cor ma sembra la dolorosamente ch'io dico anima mia che non ten vai che li tormenti che tu porterai nei secol che te già tanto noioso mi fan pensoso di paura forte un dio chiamo la morte come soave dolce mio riposo e dico vieni a me con tanto amore che sono astioso di chiunque more e si raccoglie nei miei sospiri un sono di pietade che va chiamando morte tuttavia a lei si volser tutti i miei disiri quando la donna mia fu giunta dalla sua crudelitate perché il piacere della sua beltate partendo se dalla nostra veduta divenne spiritual bellezza grande che per lo cielo spande luce d'amor che gli angeli saluta e l'ontelletto loro alto sottile face maravigliar si vè gentile in quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta dagli cittadini di vita eterna io mi sedea in parte nella quale ricordandomi di lei disegnava uno angelo sopra certe tavolette e mentre io lo disegnava volsi gli occhi e vidi lungo me uomini ali quali si convenia di fare onore e riguardavano quello che io facea e secondo che me fu detto poi e lì erano stati già al quanto anzi che io me ne accorgesse quando li vidi mi levai e salutando loro dissi altri era testemmeco però pensava onde partiti costoro ritornaimi alla mia opera cioè nel disegnare figure di angeli e facendo ciò mi venne uno pensiero di dire parole quasi per annovarle e scrivere a costoro li quali erano venuti a me e dissi allora questo sonetto lo quale comincia era venuta lo quale ha due cominciamenti e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro dico che secondo lo primo questo sonetto ha tre parti nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria nella seconda dico che amore però mi facea nella terza dico degli effetti d'amore la seconda comincia qui vi amor che la terza qui vi piangendo usciva un foro questa parte si divide in due nell'una dico che tutti i miei sospiri uscivano parlando nella seconda dico che al quanti diceano certe parole diverse dagli altri la seconda comincia qui vi ma quei per questo medesmo modo si divide secondo l'ultimo cominciamento salvo che nella prima parte dico quando questa donna era così venuta nella mia memoria e ciò non dico nell'altro primo cominciamento era venuta nella mente mia la gentil donna che per suo valore fu posta dall'altissimo signore nel ciel dell'umiltate ovè maria secondo cominciamento era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore entro in quel punto che lo suo valore vi lasse a riguardar quel che o facia amor che nella mente la sentia sera svegliato nel destrutto core diceva sospiri andate fore perché ciascun dolente si partia piangendo uscivan for dello mio petto con una voce che sovente mena le lacrime dogliose agli occhi tristi ma quei che n'uscian for con maggior pena venian dicendo oi nobile intelletto oggi fallanno che nel ciel salisti poi per alquanto tempo con ciò fosse cosa che io fosse in parte nella quale mi ricordava del passato tempo molto stava pensoso e con dolorosi pensamenti tanto che mi faceano parere defore una vista di terribile sbigottimento onde io accorgendomi del mio travagliare levai gli occhi per vedere se altri mi vedesse allora vidi una gentile donna giovane e bella molto la quale da una finestra mi riguardava sì pietosamente quanto alla vista che tutta la pietà parea in lei accolta onde con ciò sia cosa che quando li miseri veggiano di loro compassione altrui piuttosto si muovono a lagrimare quasi come di se stessi avendo pietade io sentì allora cominciare di miei occhi a volere piangere e però temendo di non mostrare la mia vile vita mi partì odinanzi dagli occhi di questa gentile e dicea poi fra me medesimo e non puote essere che con quella pietosa donna non sia nobilissimo amore e però proposi di dare uno sonetto nelle quale io parlassi di lei e conchiudesse in esso tutto ciò che narrato è in questa ragione e però che per questa ragione assai manifesto sì non lo dividerò lo sonetto comincia videro gli occhi miei videro gli occhi miei quanta pietade era apparita in la vostra figura quando guardaste gli atti alla statura ch'io faccio per dolor molte fiate allora m'accorsi che voi pensavate la qualità della mia vita oscura sì che mi giunse nello cor paura di dimostrar con gli occhi mie aviltate e tolsimi dinanzi a voi sentendo che si muovean le lacrime dal core che era sommosso dalla vostra vista io dicea poscia nell'anima trista bene con quella donna quello amore lo qual mi face andar così piangendo avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea sì si facea ad una vista pietosa ed un colore pallido quasi come d'amore onde molte fiate mi ricordava della mia nobilissima donna che di simile colore si mostrava tuttavia e certo molte volte non potendo lagrimare né di sfogare la mia tristizia io andava per vedere questa pietosa dama la quale parea che tirasse le lacrime fuori degli miei occhi per la sua vista e però mi venne volontade di dire queste parole parlando a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia color d'amore ed è piano senza dividerlo per la sua precedente ragione color d'amore e di pietà sembianti non preser mai così mirabilmente viso di donna per veder sovente occhi gentili o dolorosi pianti come lo vostro qualora davanti vedetevi la mia labbia dolente sì che per voi mi vencosa alla mente ch'io temo forte non lo corsi schianti e o non posso tenerli occhi distrutti che non reguardi in voi spesse fiate per desiderio di pianger che li hanno e voi crescete sì lor volontate che della voglia si consuman tutti ma lagrimar dinanzi a voi non sanno io venni attanto per la vista di questa donna che i miei occhi si cominciarono a dilettare troppo di vederla onde molte volte me ne cruciava nel mio cuore ed avea me ne pervile assai onde più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei e dicea loro nel mio pensiero or voi solavate fare piangere chi vedea la vostra dolorosa condizione e ora pare che vogliate dimenticarlo per questa donna che vi mira che non mira voi se non in quanto le pesa della gloriosa donna di cui piangere solete ma quanto potete fate che io la pur rimembrerò molto spesso maladetti occhi che mai se non dopo la morte non dovrebbero le vostre lacrime avere restate e quando così avea detto fra me medesimo ali miei occhi e li sospiri ma salivano grandissimi e angosciosi e a ciò che questa battaglia che io avea meco non rimanesse saputa pur dal misero che la sentia proposi di fare un sonetto e di comprendere in ello questa orribile condizione e dissi questo sonetto lo quale comincia l'amaro lagrimar e da e due parti nella prima parlo agli occhi miei sì come parlava lo mio cuore in me medesimo nella seconda rimuovo alcuna dubitazione manifestando chi è che così parla e comincia questa parte quivi così dice potrebbe bene ancora ricevere più divisioni ma sariano in darno però che è manifesto per la precedente ragione l'amaro lagrimar che voi faceste oi occhi miei così lunga stagione facea lagrimar l'altre persone della pietade come voi vedeste ora mi par che voi l'obbliereste se io fosse dal mio lato sì fellone chi non ven disturbasse ogni cigione membrandovi colei cui voi piangeste la vostra vanità mi fa pensare spaventarmi sì ch'io tema forte del viso d'una donna che vi mira voi non dovreste mai se non per morte la vostra donna che è morta obbliare così dice il mio cuore e poi sospira ricoverai la vista di quella donna in sin nuova condizione che molte volte ne pensava sì come di persona che troppo mi piacesse e pensava di lei così questa è una donna gentile bella giovane e savia e apparita forse per volontade d'amore a ciò che la mia vita si riposi e molte volte pensava più amorosamente tanto che lo cuore consentiva in lui cioè nel suo ragionare e quando io avea consentito ciò e io mi ripensava sì come dalla ragione mosso e diceva fra me medesimo deo che pensere questo che in così vile modo vuole consolare me e non mi lascia quasi altro pensante poi si rilevava un altro pensiero e dice a me or tu sei stato in tanta tribulazione perché non vuoli tu ritrarre te da tanta maritudine tu vedi che questo è uno spiramento d'amore che ne reca le disiri d'amore dinanzi ed è mosso da così gentil parte come quella degli occhi della donna che tanto pietosa ci sai mostrata onde io avendo così più volte combattuto in me medesimo ancora ne volli dire al quante parole e però che la battaglia dei pensieri vinceano coloro che per lei parlavano mi parve che si convenisse di parlare a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia gentil pensiero e dico gentile in quanto ragionava da gentile donna che peraltro era vilissimo in questo sonetto fo due parti di me secondo che i miei pensieri erano divisi l'una parte chiamo cuore cioè l'appetito l'altra chiamo anima cioè la ragione e dico come l'uno dice con l'altro e che degno sia di chiamare l'appetito cuore e la ragione anima assai è manifesto a coloro a cui mi piace che ciò sia aperto vero è che nel precedente sonetto io fo la parte del cuore contra quella degli occhi e ciò pare contrario di ciò che io dico nel presente e però dico che ivi lo cuore anche intendo per lo appetito però che maggiore desiderio era lo mio ancora di ricordarmi della gentilissima donna mia che di vedere costei avvegna che alcuno appetito ne avessi già ma leggiero parea onde appare che l'uno detto non è contrario all'altro questo sonetto ha tre parti nella prima comincio a dire a questa donna come lo mio desiderio si volge tutto verso lei nella seconda dico come l'anima cioè la ragione dice al cuore cioè allo appetito nella terza dico come li risponde la seconda parte comincia quivi l'anima dice la terza quivi e il risponde gentil pensiero che parla di voi se invene a dimorar meco sovente e ragiona d'amor sì dolcemente che face consentirlo core in lui l'anima dice al cor chi è costui che viene a consolar la nostra mente ed è la sua vertù tanto possente caltro penser non lascia star con noi e il risponde oi anima pensosa questi è uno spirito è il nuovo d'amore che reca innanzi meli suoi disiri e la sua vita e tutto il suo valore mosse degli occhi di quella pietosa che si turbava dei nostri martiri contra questo avversario della ragione si levò e un die quasi nell'ora della nona una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa beatrice con quelle vestimenta sanguigne con le quali apparve prima agli occhi miei e preami giovane in simile etade in quale io prima la vidi allora cominciai a pensare di lei e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente s'avea lasciato possedere al quanti die contro la costanzia della ragione e di scacciato questo cotale malvagio desiderio si si rivolsero tutti i miei pensamenti alla loro gentilissima beatrice e dico che d'allora innanzi cominciai a pensare di lei sì con tutto lo vergognoso cuore che gli sospiri manifestavano ciò molte volte però che tutti quasi diceano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava cioè lo nome di quella gentilissima e come si partìo da noi e molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero chio dimenticava lui e là dove io era per questo raccendimento dei sospiri si raccese lo sollenato lacrimare in guisa che gli miei occhi pareano due cose che desiderassero pur di piangere e spesso avvenia che per lo lungo continuare del pianto d'intorno loro si facea uno colore porpureo lo quale suole apparire per alcuno martirio che altri riceva onde appare che della loro vanità furono degnamente guiderdonati sì che d'allora innanzi non potero mirare persona che li guardasse sì che loro potesse trarre a simile intendimento onde io volendo che cotale desiderio malvagio e vana tentazione paresse distrutto sì che alcuno dubbio non potessero inducere le rimaste parole che io avea dette innanzi proposi di fare uno sonetto nello quale io comprendesse la sentenza di questa ragione e dissi allora lasso per forza di molti sospiri e dissi lasso in quanto mi vergognava di ciò che gli occhi miei aveano così vaneggiato questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione l'asso per forza di molti sospiri che nasco de pensere che son nel core gli occhi son vinti e non hanno valore di riguardar persona che li miri e fatti son che paion due disiri di lagrimare e dimostrar dolore e spesse volte piangon sì camore l'incercchia di corona di martiri questi pensieri e li sospiri che ogitto diventan nello cor sì angosciosi camor vi tramortisce sì gli endole però che li hanno in lor li dolorosi quel dolce nome di madonna scritto e della morte sua molte parole dopo questa tribolazione avvenne in quello tempo che molta gente va per vedere quella immagine benedetta la quale jesucristo lasciò a noi per esempio della sua bellissima figura la quale vede la mia donna gloriosamente che alquanti pregrini passavano per una via la quale è quasi mezzo della città de ove nacque e vivette e morì o la gentilissima donna li quali pellegrini andavano secondo che mi parve molto pensosi un dio pensando a loro dissi fra me medesimo questi peregrini mi paiono di lontana parte e non credo che anche udissero parlare di questa donna e non ne sanno niente anzi li loro pensieri sono d'altre cose che di queste qui che forse pensano degli loro amici lontani li quali noi non conoscemo poi dice a fra me medesimo io so che se li fossero di propinquo paese in alcuna vista parrebbero turbati passando per lo mezzo della dolorosa cittade poi dice a fra me medesimo se io li potesse tenere alquanto io li pur farei piangere anzi che li uscissero da questa cittade però che io direi parole le quali farebbero piangere chiunque le intendesse onde passati costoro dalla mia veduta propuosi di fare uno sonetto nello quale io manifestasse ciò che io avea detto fra me medesimo e a ciò che più paresse pietoso propuosi di dire come se io avesse parlato a loro e dissi questo sonetto lo quale comincia de peregrini che pensosi andate e dissi peregrini secondo la larga significazione del vocabolo che peregrini si possono intendere in due modi in uno largo e in uno stretto in largo in quanto è peregrino chiunque è fuori della sua patria in modo stretto non si intende peregrino se non chi va verso la casa di sa jacopo o riede e però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al servigio dell'altissimo chiamansi i palmieri in quanto vanno oltre mare la onde molte volte recano la palma chiamansi i peregrini in quanto vanno alla casa di galizia però che la sepoltura di sa jacopo fue più lontana della sua patria che d'alcuno altro apostolo chiamansi romei in quanto vanno a roma là ove questi cui io chiamo pregrini addavano questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione dei peregrini che pensosi andate forse di cosa che non v'è presente venite voi da sì lontana gente come alla vista voi ne dimostrate che non piangete quando voi passate per lo suo mezzo la città dolente come quelle persone che neente par che intendesser la sua gravitate se voi restate per volerlo audire certo lo corde sospir mi dice che lagrimando n'uscireste poi ella ha perduta la sua beatrice e le parole com di lei può dire hanno vertù di far piangere altrui poi mandarono due donne gentili a me pregando che io mandasse loro di queste mie parole rimate onde io pensando la loro nobilitate proposi di mandare loro e di fare una cosa nuova la quale io mandasse a loro con esse a ciò che più onorevolmente adempiesse li loro prieghi e disse allora uno sonetto lo quale narra del mio stato e mandalo con lo precedente sonetto accompagnato e con un altro che comincia venite a intender lo sonetto lo quale io feci allora comincia oltre la spera lo quale ha in sé mio pensiero nominandolo per lo nome d'alcuno suo effetto nella seconda dico perché va l'assuso cioè chi lo fa così andare nella terza dico quello che vide cioè una donna onorata l'assuso e chiamolo allora spirito peregrino a ciò che spiritualmente va all'assuso e sì come peregrino lo quale fuori della sua patria vistae nella quarta dico come lì la vede tale cioè in tale qualità de che io non lo posso intendere cioè a dire che lo mio pensiero sale nella qualità ade di costei in grado che lo mio intelletto non lo puote comprendere con ciò sia cosa che lo nostro intelletto sabbia a quelle benedette anime sì come l'occhio debole allo sole e ciò dice lo filosofo nel secondo della metafisica nella quinta dico che avvegna che io non possa intendere la ove lo pensiero mi trae cioè alla sua mirabile qualità de almeno intendo questo cioè che per tutto è lo cotale pensare della mia donna però che io sento lo suo nome spesso nel mio pensiero e nel fine di questa quinta parte dico donne mie care a dare ad intendere che sono donne coloro a cui io parlo la seconda parte comincia quivi intelligenza nuova la terza quivi quando elli è giunto la quarta quivi vedete la tal e la quinta quivi so io che parla potrebbe si più sottilmente ancora dividere e più sottilmente fare intendere ma potesi passare con questa divisa e però non mi intrametto di più dividerlo oltre la spera che più larga gira passa al sospiro che esce del mio core intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira quando elli è giunto là dove disira vede una donna che riceve onore e luce sì che per lo suo splendore lo pregrino spirito la mira vede la tal che quando il mi ridice io non lo intendo sì parla sottile al cordo lente che lo fa parlare so io che parla di quella gentile però che spesso ricorda beatrice sì che io l'ontendo ben donne mie care appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e di venire a ciò io studio quanto posso sì come la sa e veracemente sì che se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono che la mia vita duri per alquanti anni io spero di dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna e poi piaccia a colui che è sire della cortesia che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna cioè di quella benedetta beatrice la quale gloriosamente mira nella faccia di colui qui est per ogni a secula benedictus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti